Una folta colorata e partecipe tifoseria ha accompagnato il Polipezzazze e il Volleyverolle durante la finalissima per la categoria Top Junior, disputata oggi pomeriggio al Pala 53 di Concesio. Nel primo set il Pezzazze è preciso e deciso e mantiene costanti tra sé e il Volleyverolle almeno due punti di distacco fino alla vittoria per 25-21. Il secondo parziale inizia con un secco 6-0 per il Pezzazze che chiude per 25-11. La partita sembra già decisa ma il Volleyverolle, trascinata dal capitano, nel terzo set macina punti su punti imponendosi per 12-25. Il Polipezzazze nel quarto parziale reagisce ma non abbastanza, il set è del Volleyverolle per 20-25. Al tie-break le due formazioni, sempre sostenute da un tifo caloroso, danno tutto quello che possono ed è un testa a testa. Alla fine la spunta al Polipezzazze sul 15-12. Anche perché veniamo effettivamente da tre campioni.